Buongiorno, sono Marco Giamello, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente. Mi occupo di conservazione, archeometria e risorse minerali. Per la Notte dei Ricercatori 2017, insieme al professor Roberto Bartalini, ordinario di Storia dell'Arte Medevale del nostro Ateneo, faremo delle visite guidate riguardo ad alcuni aspetti non ancora esaminati del dipinto di Simone Martini. Le indagini e le analisi sono condotte in occasione del cantiere di restauro, grazie all'amministrazione comunale di Siena, alla superintendenza nella persona del dottor Alessandro Bagnoli, al restauratore Massimo Gavazzi. Si tratta in particolare di approfondimenti eseguiti con nuove strumentazioni, in collaborazione anche con il CNR. Questi aspetti riguardano i vetri decorativi del trono, gli aspetti inerenti le aureole, le decorazioni tridimensionali delle aureole e tutti gli strati pittorici inerenti al dipinto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.